Assolutamente sì, quando nella semplificazione giornalistica si parla di personale scolastico io ho sempre inteso di ogni ordine grado, per cui è inclusa dal mio punto di vista, non credo che sia in discussione che sia incluso anche l'università in questo. Io credo che sarebbe molto importante, sarebbe un segnale per i giovani, perché comunque, ripeto, il quadro è sempre quello che dobbiamo rispettare ed essere molto attenti alla salute di tutti, quindi all'interesse del Paese, però c'è un interesse forte nell'andare incontro ai giovani perché la dimensione dell'apprendimento a distanza è problematica, soprattutto poi diciamo nelle fasce più giovani della scuola, probabilmente ancora di più, anzi, senza probabilmente.